Nella scorsa settimana sono stati eseguiti con successo due trapianti di rene da donatore vivente al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, il primo da mamma figlia, il secondo tra due sorelle, tutte calabresi. I trapianti eseguiti con tecnologia robotica hanno creato grande soddisfazione ed entusiasmo negli operatori del settore trapianti, autori a vario titolo di questo straordinario risultato, centro regionale trapianti, chirurghi trapiantologi e l'equipe di nefrologia che prepara e gestisce, nella fase dedicata del pre- e post-trapianto, i pazienti. La comunità nefropatica rivolge all'ingegnere Iole Fantozzi, attuale direttore Dipartimento della Salute e precedente commissario ziendale del GOM, un sentito ringraziamento e un plauso per aver progettato con immediatezza, dopo denuncia di ANED, un percorso di formazione che ha portato all'usinghiero risultato del trapianto da donatore vivente. Oggi la carente azione del commissario GOM verso la disciplina di nefrologia, dialisi e trapianto, scrive Maria Larosa del comitato ANED, crea tanta preoccupazione per un difficile futuro dei nefropatici reggini, nell'esempio la riluttanza del commissario al confronto con la nostra associazione, foriera del permanere di problemi vitali per i trapiantati, come l'inserimento tardivo in lista trapianto e il mancauto utilizzo del precessatore degli organi spiantati.